Il progetto SUSCHIN, acronimo di Sustainable Fish Feeds Innovative Ingredients, si prefigge di aumentare la produttività degli allevamenti di pesce italiani in maniera sostenibile ed economica, salvaguardando la qualità e la sicurezza alimentare del prodotto ittico. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise è partner in questo importante progetto di ricerca triennale, finanziato con oltre 715 mila euro da Ager, una rete di fondazioni bancarie, tra cui la Fondazione Tercas, tesa a sostenere la ricerca scientifica nell'agroalimentare. Quanto è importante questo progetto? Il consumo di pesce è in aumento in Italia e naturalmente è in aumento la necessità e la richiesta da parte dei consumatori di usufruire dei prodotti alimentari che siano buoni e sicuri, cioè che facciano bene e che non contengano residui di sostanze che possano interferire con la nostra vita normale. Quindi questo migliorerà la qualità del nostro pesce? Migliorerà la qualità del nostro pesce e migliorerà anche la qualità ambientale perché l'obiettivo di questo progetto è cercare di individuare sottoprodotti delle varie lavorazioni che possono essere riutilizzati attivamente nell'industria mangimistica e non essere buttati o considerati rifiuti. L'altra parte importante del progetto è l'utilizzazione del gambero rosso che è una specie aliena e combattere questo gambero rosso per i territori europei e anche per l'Italia è molto importante per salvaguardare la nostra flora e fauna autoctona.